Puricelli, è importante andare a elezioni, siamo commissariati e non è certo una bella figura che facciamo, ma qui non ci vogliono delle elezioni democratiche ben fatte con tutte le federazioni che votano, e voi tecnici anche, insomma, date il vostro parere, secondo lei è una cosa normale? No, è assolutamente giusto, bisogna andare a elezioni, dopo un anno e più di commissariamento dobbiamo mettere lì chi viene eletto giustamente con una democratica elezione, come tutti gli sport, tutte le federazioni, perché bisogna andare avanti nello sport. E allora c'è qualcuno che blocca, perché comunque non si sciva mai, siamo sempre lì, c'è sempre qualcuno che ferma, noi non facciamo nomi, ma qualche cosa succede, qualche cosa si deve muovere Puricelli. Assolutamente, qui sentiamo che ci sono ricorsi su ricorsi e non si va avanti. E non si va avanti. Puricelli, poi c'è una scadenza importante, qual è? L'anno prossimo c'è la qualifica, l'ultima qualifica per le Olimpiadi di Rio, per cui non possiamo stare a guardare ed aspettare ancora, bisogna cambiare e partire per fare bene lo sport. Grazie Puricelli, è stato un bravo tecnico, grazie. Grazie. Grazie.